Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo. Durante la mattina di oggi è previsto l'arrivo di un'intensa perturbazione nord-atlantica che porterà piogge diffuse, vento forte e possibili nevicate su gran parte della Toscana. Raccomandiamo la massima prudenza alla guida e ricordiamo l'obbligo di catene a bordo, dotazioni invernali. Per la mobilità segnaliamo in FIPILI perdita di carico tra Empoli ed Empoli Est in direzione di Firenze, possibili rallentamenti. Siamo al traffico ferroviario regionale 3032, Orbetello, Firenze, Santa Maria Novella sta viaggiando con 27 minuti di ritardo. L'arrivo a destinazione è al momento previsto alle 10.32, salvo recupero. Muoversi in Toscana Infia, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!